Ciao a tutti e ciao a tutti per questo episodio di Technical Tubo Allora, i miei motori ci sono fermati perché Allora, mi sono reso conto che il mio setup era sbagliato Non potevo mettere la valvola qui Semplicemente perché deve essere al lato Diciamo, non so se è una cosa ufficiale che c'è scritta nella wiki o altro Ma me ne sono reso conto adesso per esperienza diciamo Deve essere allo stesso livello della biomassa Quando era sopra ne tirava fuori pochissima ogni tanto Invece adesso lo tira fuori costantemente Che senso E così almeno riusciamo a far partire i nostri amici Eccoli qui, sono partiti E c'è anche un bel po' di biomassa Ora anche i nostri amici qua sotto dovrebbero iniziare a tagliare E sminuzzare Più o meno Ehm, qui abbiamo anche dei command drones che mi avanzano Oh, cellulare Un attimo eh No, no, non mi interessa Ehm Un attimo Ok, ok, I'm back Era un messaggio lungo da scrivere, il mio preferito Non sfappare C'è un po' di lag del server Non vorrei fosse un lag mio Ehm, no No, con nessuna internet va bene Abbo Misteri della fede Ah, alleluia No, guarda, lagga Ehm, ok, quindi come detto ora siamo pieni Ehm, anche questi dovrebbero essere pieni Ok, ora smesso di lagare Molto meglio Ehm, invece no Ok Vorrei vedere quando riusciremo a riempirlo tutto come luccherà Del vetro Probabilmente non vedremo un cacchio perché non è trasparente Però Che ne sai Ehm, ok Allora Piani per oggi Posare questi semi Dio Bene Per questo è tutto Io saluto No, ok Tanto dopo Sapete che il video dura di più Quindi Letto Non ho capito Che fa Pura Ah, sorry Ah, 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 ah Come on Ah, ok Oddio, dove è finita la fiammetta? Ok, me l'ho spaventato Ehm, posiamo mister fa fa puno E vediamo se fa 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 puno di là Fa 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 Aspetta, no, ok, ora mi viene il dubbio Ah, no Avevo interrotto questo per caso Per questo non è quello start up Ok, ora si è quello start up Ah, se I didn't say nothing Ok 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 Ok, ora andiamo a craftare una cosa molto figa Che avevo annunciato già nello scorso episodio Che sono di Turtle Teleporter Ok, la smetto Allora, ci facciamo quattro di questi Prendiamo due pezzetti di Oxidian Oxidian proprio No, quattro Dobbiamo farne due, abbiamo detto Sono 12 Ender Pearl Ehm, che cosa sto facendo? Non ve lo so dire Ok Perfetto, queste le trasformiamo in ferro Perché Perché Ingegno poco Ehm, Obsidian Ok Oh, cose che non mi servono Certo Eh, se no Sennò che Surreal Power sarei Non sarei un Surreal Power E come faccio a non essere Surreal Power Se io in effetti sono Surreal Power Ah, buo Se non lo sei te Lo saccio io Ok, questo legno è più che inutile È inutilissimo Anche questo è inutile 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 Alleluia 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 Ok, questo è molto bene Alleluia Now, ehm The other things I need Eh, are No, actually I think I need only another thing That's called What's called, what's called, what's called I can't remember I think it was Gate Reader Yes Che è Autarch Gate Red Un qualsiasi gate Che io già possiedo E Redstone Ferro E un colore Vabbè, facciamolo giallo Dato che giallo ne abbiamo un po' Un pezzo di redstone E uno di ferro Ok, andiamo a fare Nella nostra Assembly Tipo wall E giusto perci Facciamo anche un gate Poi facciamo Puff Puff E puff Questi non li voglio Questi non li voglio Voglio questi dopo Voglio il gate E i yellow pipe wire Vedo lentini però Su via Vi voglio gialli Vi voglio orientali No, che era bruttissima Eh, ha fatto il gate I think it did No, no, è piuttosto lentuccio Una misè Troppo, troppo lentuccio Penso sia ora Di fargli un fap No, no, no Basta aspettare Ok, ci sta un problemino Ci sta un problemino Che qualcuno ha fappato qualcosa E la mappa si è bugata Abbiamo caricato un backup Di stamattina Quindi qua ho rifatto velocemente il coso Però la tartaruga sotto Non fa pava più Nel senso Non ha più il piccone Che non mi ricordo se aveva Tra l'altro Ma non mi pare E non ha nemmeno Il programmi Era vuota Quindi ora sto facendo un quick control Per vedere Se tutto va bene Sì, il timer qui c'è Vediamo di qui Che qui potrebbe creare problemi Se non funziona Ad esempio Tutta sta gente No, qua funge Anche questa Perfetto No No Ah beh sì Questo è È troppo pieno Perché la tartaruga non fa pava Tra l'altro anche Autofuel Perché non ha Ora Ora se io mi ricordassi Come si chiamava Serial fa per tre Undici, dodici Ah no Ho perso tutti Tutti gli D No, sì Questo è uno scherzo Che mi ha fatto Darkin Durante il live È sicuro il 100% Allora Label Set Bonemeal Come prima cosa Lo metto a caricare Che è la prima cosa Rottura Poi Gli passo lo startup Direi Sì Ehm Come accessi Da Nieda I hope you fucking Kill me Right Ah no Non devo mettere rom Scemo io Ok Ok Poi cos'altro Pronto che è più rapido a scrivere Non so perché Script copy Ah, diciamo semplicemente un Script copy Copy Ok Ok Ora aspetta Vabbè intanto faccio un edit Bonemeal Non mi ricordo Se ho messo su Pastebin Il programma Ehm Ehm 13 blocchi Vabbè Cosa deve fare Deve andare No vabbè 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 Ok L'ho fatto Si chiama ancora Buon mio Vediamo un po' Eh sì 8200 Eh Sono ancora pochini Sai cosa Ce l'abbiamo Uno stack di blaze Ehm Ma sì Vediamo Uno stack di blaze Ah Blaze Speriamo Non ci siano crash Che cos'è Allora Facciamo Zackete Refuel All Ok Vediamo intanto se funge Se non funge Vediamo uno stack per iniziare Anzi Sì Dai Non stack Buona Mio Ah Ah You fucking kill me Ok You fucking kill me Oh Oh Cresci Ah Scemo io Turtle please down Poi vogliamo che faccia Questo intanto facciamo così Turtle punto forward Go forward Turn Right Ok Ora dovrebbe andare Vediamo se preleva Il bombino da qua Vediamo se gira correttamente No Devo fare 0 13 Così me ne fa uno in meno Oh Oh Io ho cliccato Terminalo Ok Edit bone meal Invece di 1 13 0 13 Non mi ricordavo se erano 13 o 14 blocchi 13 o 12 blocchi Go back Ok Bone meal Oddio perché sacca così tanto Non dovrebbe saccare Saccare Sì certo Vediamo se la fine è in fondo Ora Si non mi fa tutti ma è ok I guess it's ok Vediamo solamente se mi Ok Perfetto I hate you So much Ok molto bene Dunque 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 Eh si Stavo vedendo questo Ma sembra andare più o meno bene Eh il server si è bugato La mappa si è bugata Sono sicuro non per colpa mia Perché quando è crashato Io non sto facendo niente Ero qui FK Ed erano Brent e Ulisse che stavo maneggiando con il sistema sorting di Brent Quindi Eh dato che lo dico sempre Mi tocca ripeterlo È colpa di Brent Eh Bene bene What the fuck What's that Eh Sì allora Devo iniziare a lavorare sul serio Su queste Meticissime Eh Amiche Dette Eh Prendiamo tutti sti semi Queste amiche Dette Api Perché ci sono alcune api Che mi sono essenziali Per automatizzare Un certo lavoretto Eh che lavoretto Sapessi Sapessi Ok 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 Abbiamo bisogno di uno squisa Vedrai che va al lavoro Molto velocemente Teniamoli sui dieci Due motori bastano e avanzano E andranno nel carpenter No No nel carpenter Un corno Quanto ce ne vuole Per fare un po' Usage Ah giusto No abbiamo il plugin aggiornato Va bene Facciamo una cosa Molto rapida Easy Beasy Easy Beasy 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 Potremmo anche fare questi Eh ce ne vuole un po' Lascia stare Ce ne vuole un po' Di semi Beh per favore Abbiamo una produzione Più che avviata Eh Questi abbiamo già misurati Eh io so che ci poteva fare Un Beanalyzer fisso Beanalyzer Redstone E gold ingot Mi sa che mi conviene farlo Tipo E automatizzare il tutto Io voglio automatizzare tutto Voglio Proprio Lo desidero Ardamente Arduamente Si Sta piovendo Sei serio Ok con le particelle Disattivate Ma dovrei riuscire a vedere Se sta piovendo O meno Ma che lo sa Bungee jumping Fappone Stai più Nelle case Degli altri Che Dovrò fare uno scudo Perché Non mi sta bene sta cosa No no Non mi sta bene E qui invece La posizione di ossa Invece Non va come desiderata La posizione di ossa Vanno troppo lente Va bene Comunque per questo episodio È tutto Scusatemi Che oggi Nel che abbia fatto C'era già questa fine Sì Che cazzo dico Scusate se non ho fatto niente Ma ho dovuto Riprogrammare il cosetto È stato un casino Lasciate stare Oh Ho visto il tank Di fappone Quale Perché esiste un tank In cui può metterci Della cosa bianca Il latte Possiamo metterci il latte Oh Lascio stare Wait What? Ultimo tank Nella piazza Non voglio andare a vedere Non voglio andare a vedere Non voglio andare a vedere Non lo vedo poi Se voglio Ok Dunque Per questo episodio È tutto Io vi sta Un punto E' un ciam Ah 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 No Come back where you are Non posso muovere nessuna di queste cose Un po' una rottura Oh Ti odio Non è simmetrico Ma non lo so Ah Così va meglio Eh Ti viene un colpo Se non metti le cose simmetricamente Ma su serio Ehm Mi sono informato Ed è vero che Quando spacchi la La robetta Tira tutta l'esperienza Però boh Io non l'ho mai notato Quindi se E mantiene al massimo 100 100 orbs sono È il suo massimo Quindi potrei metterne più di una Ti bisognerebbe vedere Se magari emette un segnale di redstone Eh sì Voglio troppo Bene bene Funge correttamente direi Peccato che tutte le frecce Il resto le buttiamo Ma Sicuramente non ci servono a niente Quindi Anche fap Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Mi sa che iniziamo a parlare Di monitor Ciao Tru tru Tutti Ehm Ciao